La squadra del Catania Quanto un personaggio come Nicola Le Grottaglie attira, magari all'inizio per curiosità la gente, poi magari la gente resta perché comincia a credere davvero in quello che sente. Ma noi pensiamo che attiri moltissimo ed egli, avendo fatto un'esperienza vera di fede, mette a disposizione la sua fama per essere un esempio positivo e quindi immogliare i giovani a seguire la stessa strada. In un momento che a volte gli esempi purtroppo sono del tutto negativi, Nicola si contraddistingue per essere un esempio positivo. Come ha giocato oggi Nicola Le Grottaglie? Ma direi molto bene, compreso il Catania. Grazie a tutti.